Io sono Dimitri Ruggeri, l'autore dei testi di Status d'Amore che al momento stiamo registrando. Ho visto l'alba di cinque soli, digrignando con labbra sanguigne il sapore della terra aspra e marziana. Status d'Amore è una raccolta, una silloge di poesie che ho cercato di strutturare secondo un cammino. Quindi stiamo un pochino, stiamo continuando sull'onda di carne e mare il cammino. Ho cercato in questo modo di dedicarmi esclusivamente al tema dell'amore, strutturando la raccolta in determinate fasi che vengono fuori leggendo l'intero corpo del testo. Ho cercato di fare qualcosa di abbastanza complesso con una mia introduzione, con un mio saggio e ho scelto di non far intervenire nessuno sul testo, né come prefazione né come saggio. Perché anche se l'idea sia universale, mi assumo totalmente la responsabilità di quello che ho scritto. Quindi all'inizio dei testi c'è anche un saggio che descrive questo status d'amore fondamentalmente, quindi che è un insieme di norme quasi umane, ma che in realtà umane poi non sono. E cerco di delineare tutti i singoli passi in maniera ovviamente personale, però pensando sempre che dall'altra parte c'è qualcuno che spero leggerà. Se improvvisamente ti coprisse il deserto, non ti cercherei più, mai più. Aspetterei mille anni per diventare pietra, aspetterei mille anni per tornare sabbia, aspetterei tutta la mia vita per mutare il mio ventre in verme e cercare ancora le tue viscere, ancora nella tua carne, lì, ancora lì, deliziosa come una mummia defunta di regina egiziana. Ci troviamo nella seconda fase di questo progetto molto complesso e ambizioso, che tra l'altro coinvolge e ringrazio tutti gli artisti che si stanno impegnando e ci stanno credendo e tutti i professionisti della Pop Act che ci stanno seguendo. Quindi è un progetto che coinvolge molte persone e spero veramente di non dedurre. Io la farei ora, nella prima lettura. La prima la vogliamo fare. La facciamo così. E poi la seconda vediamo quella così. Un colore dipingerà il tuo palazzo. Ci troviamo al momento in fase di registrazione per quello che sarà l'audiobook, come ho detto prima. e ci saranno, spero, altre aggiunte magari. Poi il progetto ha già di per sé una connotazione, ma ci saranno molti inserimenti. Possiamo riprendere da qua? Forse è meglio di no. La rifacciamo. La rifacciamo. La rifacciamo. La rifacciamo. Grazie a tutti